Se state guardando questo video è perché probabilmente anche voi a breve dovrete mettervi alla prova con i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato come ovviamente il corso di laurea in medicina e chirurgia. Probabilmente appunto anche voi a scuola avrete trattato la chimica in maniera superficiale, non l'avrete studiata bene, è assolutamente normale, sono tanti anni che faccio ripetizioni e sono tanti anni che purtroppo mi rendo conto che la chimica a scuola è insegnata in maniera veramente pessima. Per cui non è colpa vostra se arriverete ai test preoccupati perché pensate magari di non avere la preparazione adeguata. In realtà la chimica presente nei test d'ingresso appunto a medicina o in generale ai corsi di laurea al numero programmato non è particolarmente difficile, devo dirvelo comparata per esempio ai test di biologia è decisamente più facile. Per cui non vi preoccupate, anche se siete veramente a digiuno di chimica, in questo corso riusciremo a mettervi di nuovo in pari e riuscirete a essere nelle condizioni adeguate per affrontare il test. Appunto, facciamo questa permessa per dire che questo corso è rivolto a chi la chimica non l'ha nemmeno mai sentita denominare, quindi partiremo veramente da zero. So anche che molti di voi probabilmente avranno anche alcune difficoltà matematiche. Ovviamente questo non è un corso di preparazione per la parte matematica, però in certe occasioni vi darò qualche consiglio applicato alla chimica, in particolare su alcuni concetti di matematica leggermente più avanzati, che magari potreste non avere chiare, che ci servono per i nostri scopi, e in più vi darò anche qualche informazione, vi insegnerò qualche trucchetto per fare i conti a mente. Come sapete, durante il test non potete usare le calcolatrici, la maggior parte, anzi tutti gli esercizi in realtà degli anni passati, sono sempre stati tarati in modo da poter essere facilmente risolvibili anche a mente, però ogni tanto ci vuole qualche trucchetto che ci renda la vita più facile e io cercherò di insegnarvelo. Questo primo video è puramente introduttivo, oggi non parliamo di chimica, è solamente per spiegarvi qual è l'idea di questo corso e come dovrete affrontare lo studio. In generale consiglio sempre, quando si studia chimica, di soffermarsi molto sugli esercizi, bisogna veramente, veramente fare una maria di esercizi. Questo caso è un po' diverso, perché? Perché ovviamente state facendo dei test a risposta multipla, li state facendo su un numero di argomenti limitato, e si tratta di test prevalentemente di tipo teorico, ok? Non sono degli esercizi veri e propri da risolvere. Magari dovete fare qualche conto, ma sono cose veramente semplici, ok? Non ci sono molti passaggi da fare. Di conseguenza non c'è nemmeno bisogno di fare chissà quanti esercizi e chissà di quale tipo. Ciò che è importante è esercitarsi sui test. Ricordatevi che sul sito del MIUR troverete i test degli anni passati, sono i test ufficiali, esercitatevi su quelli. Mano a mano che il corso proseguirà, voi seguitemi facendo gli esercizi che trovate nei test ufficiali. Ovviamente potete anche utilizzare i libri che vengono venduti da varie case editrici per la preparazione ai test d'ingresso. In genere questi libri non li trovo eccezionali dal punto di vista didattico, perché sono troppo concisi e quindi per un autodidatta, quindi per un ragazzo che non ha mai studiato chimica, possono essere complicati, complicati da capire. Sono ottimi per ripassare, se avete studiato chimica bene a scuola, sono ottimi per ripassare. Ma se non l'avete mai fatta, ho qualche dubbio. Sono invece buoni però per gli esercizi, quindi io comunque vi consiglio di prenderne almeno uno, perché c'è un'ottante esercizi da poter fare. Però ovviamente per la parte teorica vi consiglio di seguire il mio corso. Ovviamente sono un pochino di parte, ma fidatevi, rimarrete soddisfatti. Dal punto di vista dello studio, quindi, vi consiglio di affiancare, casomai, il mio corso, la parte teorica, con il vostro libro di chimica delle scuole superiori. Probabilmente, anche se avete fatto il liceo classico, il liceo linguistico, avrete un libro di chimica. In genere, soprattutto quelli da Zanichelli, sinceramente, li ho sempre trovati molto buoni. I libri di chimica per la scuola superiore, in genere, sono abbastanza chiari, devo dire. Sono veramente a un livello accettabile. Anche per lo studio d'autodidatta. Per cui, se avete un libro di chimica, vi consiglio di utilizzare quello per riguardare la teoria, mano a mano che la tratteremo nei video. In queste video lezioni cercherò io di essere anche il più conciso possibile. Cioè, vi spiegherò le cose da zero, in modo che siano chiare, ma cercherò magari di non perdermi in eccezioni, o di non andare troppo a fondo. Staremo un po' sulla superficie. D'altronde, appunto, non è un corso per superare un esame, è un corso per superare un test. Quindi vedremo gli argomenti presenti nel syllabus del ministero e vedremo come applicare queste conoscenze per superare i test, anche con qualche trucchetto di furbizia. E niente, questo corso sarà diviso principalmente in tre parti. In una prima parte guarderemo la struttura della materia, quindi atomi, molecole e legami chimici. In una seconda parte vedremo i fondamenti della chimica vera e propria, quindi soluzioni, proprietà delle soluzioni, bilanciamento delle reazioni chimiche, un pochino di termodinamica, il pH, gli equilibri, queste cose qua. Parte finale sarà la chimica organica. Sarà abbastanza breve, ma è importante, sia perché vi serve per la biologia, sia perché vi serve per il test. Vedremo un pochino di nomenclature, vedremo i gruppi funzionali più importanti. Comunque, questa qua sarà una parte un pochino più secondaria, saranno due o tre lezioni. Il grosso saranno i primi due moduli, struttura atomica e, diciamo, chimica generale. Ovviamente questo corso è completamente gratuito, io credo assolutamente nella conoscenza gratuita, libera e accessibile a tutti quanti. Credo nei test al numero chiuso, perché credo che solamente chi ha voglia di studiare debba avere la possibilità di continuare a farlo, ma credo che chiunque debba essere messo nelle condizioni di dare il 100%, di sviluppare appena il suo potenziale. Ed è questo lo scopo di questo corso. Ovviamente, se volete sostenermi, potete farlo. Io vi ringrazio. Trovate giù il link alla mia pagina Patreon e alla mia pagina PayPal. Se questo corso vi piace e volete sostenerlo, per me sarebbe davvero, davvero importante, anche per continuare a fornire questi video gratuiti a tutti quanti. e niente, direi che per questo video noi ci fermiamo qua, ripartiremo con la chimica vera e propria nel prossimo video, nel quale inizieremo a parlare di soluzioni, vedremo cos'è una soluzione, cos'è un miscuglio, cos'è una miscela omogenea, una miscela ed erogenea, e i metodi di separazione. Sarà un video abbastanza semplice, ma è importante avere questi concetti ben chiari. Per cui vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!